Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi torniamo a parlare di investimenti alternativi, in particolare focalizzandoci sull'investimento in vini. Avevamo visto tutta una serie di altre categorie, dalle carte collezionabili, immobili, metalli preziosi, oggetti anche di arte, automobili, orologi di lusso, eccetera. E come per molte altre categorie, anche per l'investimento in vini e forse in particolare per l'investimento in vini, secondo me e secondo anche altri esperti, l'investimento dovrebbe intrecciarsi e non prescindere da lobby, dall'interesse ovviamente per l'oggetto dell'investimento. Per i vini probabilmente questo è ancora più vero rispetto magari ad altre categorie di investimento più standardizzate come gli strumenti finanziari, azioni, obbligazioni, anche metalli preziosi sotto certi punti di vista, dove comunque più o meno diciamo si tratta di una categoria, un mercato da studiare, da capire, ma non è un hobby, un interesse solitamente, ecco, materie prime, cose così. Per i vini invece c'è tutto un mondo dietro che non si finisce mai di scoprire, anche perché ogni cantina cambia nel tempo, ogni annata è diversa, un vino cambia a volte addirittura da l'uva se viene da una vigna o l'altra, come cambia il terreno, come è stato il clima durante quell'anno, il vento, le temperature, i sbalzi di temperatura, eccetera. Quindi è un mondo da scoprire e solitamente diventa un'occasione, non necessariamente per persone particolarmente facoltose, ma in realtà può essere un hobby per persone di tutte le tasche, per appunto scoprire poi anche territori, abbinare magari vini a certi cibi, fare tutta una serie di esperienze. Per esempio vi consiglio, vi faccio sempre riferimento al cinema, il film Sideways del 2004, se non ricordo male, che è una commedia, parecchio divertente, ma è una commedia anche sotto certi aspetti profonda, e racconta la storia di un professore un po' così confusionario e non particolarmente ricco, era qui che diciamo è il nodo centrale, che però appunto appassionato di vini e insieme a un suo amico che si sta per sposare, era un po' così un attore un po' scapestrato, eccetera, fanno un giro, prima che lui si sposa per la California e cantina per cantina e poi finiscono tutta una serie di disavventure, però diciamo nello sfondo della storia è proprio bello vedere questo percorso di scoperta che fanno in particolare questo professore appassionato di vini, aveva letto molto, conoscono anche persone appassionate, giravano i bar, le cantine, eccetera, e ovviamente questo c'è in paesi nuovi come l'Australia, gli Stati Uniti, ma in particolare Italia, Francia, Spagna, che sono tra i principali produttori al mondo di vino, e ci sono tutta una serie di percorsi, quindi diventa anche tante volte l'occasione per fare proprio delle esperienze, dei viaggi, eccetera, quindi diciamo è un innobbi prima di tutto, però come dicevo può anche diventare un investimento, abbastanza nota e simpatica era la battuta di Gianni Agnelli che diceva, dice bisogna sempre investire in vini perché se anche va male l'investimento alla peggio si bevono le bottiglie, ecco quindi ironizzava così, però effettivamente negli ultimi anni l'investimento in vini ha avuto dei buoni risultati e c'è addirittura un indice di Londra, il LIV che sta per London International Vint Nurse Exchange, quindi diciamo la sigla è LIV barra EX, quindi diciamo il mercato vinicolo internazionale di Londra 100, che diciamo questo indice in particolare misura le variazioni di prezzo dei 100 principali vini da investimento, ma ovviamente è un indice che è uno dei tanti come il sub-dial 50 per gli orologi di lusso, però comunque dà un'idea abbastanza vaga di quello che è l'andamento del mercato dei vini pregiati e spesso viene confrontato l'andamento di questo indice rispetto al mercato azionario obbligazionario e chiaramente per dire vanno meglio i vini o il mercato dipende il periodo che si prende a riferimento. In passato ricordo anni 90, primi anni 2000, i vini e diciamo col senno di poi hanno avuto un rendimento migliore della borsa, poi in realtà negli ultimi anni diciamo erano abbastanza stabili i prezzi, non hanno avuto particolari esploi e alla fine l'ultimo anno invece sono soprattutto dal 2020 lockdown eccetera eccetera, sono saliti molto, un po' forse complice l'ondata di liquidità che è stata riversata nel mercato che poi probabilmente ha causato anche in buona parte l'inflazione attuale, ma immaginate i stimulus checks americani in generale tutta una serie di altri paesi, ma al di là degli aspetti monetari probabilmente proprio anche le abitudini delle persone sono cambiate, si stava più a casa, anche con lo stress e tutto forse si beveva di più, adesso queste sono ipotesi mie, non ho dei riscontri, però comunque diciamo il mercato anche degli investimenti di lusso in vini è andato abbastanza bene, ma non bene come i rendimenti del mercato azionario, invece quell'obbligazionario avevamo visto abbastanza sceso, quindi ha fatto meglio il vino anche rispetto alle obbligazioni, però appunto è un mercato che è interessante e spesso viene consigliato in generale a chi ha grossi portafogli da investimento proprio perché appunto dà delle opportunità di diversificazione in un settore che a livello finanziario non è correlato tanto con i mercati azionari, quindi prima caratteristica dell'investimento in vini è che storicamente ha un andamento non correlato rispetto al mercato, magari rispetto a investimenti non so, in immobili o comunque a volte anche in metalli preziosi eccetera, che comunque un po' risentono chiaramente dei cicli economici eccetera, il vino non ha questo tipo di caratteristica in generale quindi può essere una buona occasione di diversificazione rispetto a tutta una serie di asset diversificazione e differenziazione soprattutto, quello che dice Aridalio e che ricordo spesso cioè proprio delle categorie di investimento di natura diversa rispetto ai strumenti finanziari eccetera, oltre all'investimento in vini pregiati di cui parlo in questo video poi c'è anche quello in liquori pregiati, in particolare in whisky pregiati ma ho pensato di farci un video a parte perché comunque sono tante le cose da dire è un tipo di investimento che ha molte analogie con i vini ma anche tante differenze quindi ho pensato poi di dedicarci un video a parte per quanto riguarda appunto i vini come dicevo hanno da un lato l'andamento non correlato al mercato inoltre hanno tendenzialmente questi prezzi una variabilità minore del mercato comunque non è che hanno degli scossoni di prezzo esagerati e inoltre hanno delle caratteristiche particolari che si legano proprio alla natura del vino, alla qualità tante volte si pensa erroneamente questo non vale nemmeno per i super alcolici whisky che più tempo è passato e un vino più è invecchiato e più vale o comunque più diciamo è buono e pregiato in realtà non è così, dipende dal tipo di vino ognuno ha un'età di maturazione particolare legata anche lì a una serie di fattori al tipo di vino ma anche a come è conservato se è più caldo chiaramente l'età di maturazione diminuisce cioè matura prima quindi andrebbe consumato prima perché sia ottimale poi va conservato ovviamente nelle condizioni ottimali per mantenerne anche l'aroma diceva James Huckling che è un famosissimo sommelier diciamo critico di vini che dava dei consigli anche per chi vuole iniziare la collezione a casa e diceva non è che l'investimento in vini è per ricchi in realtà si può partire da tutte le tasche anche con vini non particolarmente costosi ma diciamo è un percorso di scoperta personale forse è quello più l'aspetto importante più dell'idea di guadagnare che eventualmente verrà con il tempo ma comunque deve essere in primo luogo un piacere lui diceva e spiegava in particolare dice non è che necessariamente bisogna avere cantine cose costose ma l'importante è anche tenerli sotto il letto i vini purché non ci siano sbalzi di temperatura troppo forti quindi dipende ecco tante volte ci sono dei falsi miti bisogna leggere secondo me imparare tante volte io per primo avevo tutta una serie di idee sbagliate poi quindi insomma se vi interessa il tema vi invito ad approfondirlo perché si scopre tanto e tante volte anche le immagini che da televisione eccetera è sbagliata quindi in realtà è un investimento come dicevo che ha per ogni vino un'età perfetta per consumarlo quindi già questa è una caratteristica che rende tutto particolare perché non solo come dicevo cambia un vino lo stesso vino da annata annata per esempio ma si lega anche a come è conservata la bottiglia il contesto in cui è stata conservata se è stata compromessa magari da muffe o cose così e anche da un'età perfetta di maturazione passata la quale in teoria il vino potrebbe peggiorare o comunque ecco perdere l'optimum del gusto quindi anche quello va tenuto presente se l'idea è di rivenderli eccetera e anche di consumarli insomma uno dovrebbe sapere più o meno quando è il momento migliore quindi questo è anche un aspetto quindi è un investimento con caratteristiche talmente particolari che secondo me bisogna conoscerle cioè rispetto magari anche ad alcuni investimenti in beni rifugio anche alternativi dove al limite ci si avventura ci si butta si comprano così quegli oggetti più di moda e comunque si rischia spesso di perdere soldi non conoscendo quel mercato quindi una cosa che secondo me non va mai fatta investire così tanto per dire ci butto un po' di soldi perché vedo non so gli orologi che salgono le moto che salgono allora compro una così che penso che vale è aumentata e la compro cose così perché bisogna conoscerlo tante volte quando salgono poi si fermano e magari salgono altri che non ci si aspetta per i vini è particolarmente vero perché appunto hanno delle caratteristiche talmente particolari come un po' il mercato delle opere d'arte che va conosciuto bene per quello dicevo è un hobby prima che un investimento vediamo ora comunque come poter investire in vini in realtà ci sono varie modalità e ognuna con caratteristiche diverse anche qui internet le nuove tecnologie ci aiutano enormemente quindi hanno aperto ancora di più caratteristiche e opportunità per chi comunque si vuole affacciare in questo mercato con qualunque disponibilità economica che si possa avere allora è la prima modalità per investire in vini appunto è l'acquisto diretto delle bottiglie quindi si comprano bottiglie si può fare online in alcuni paesi leggevo che è vietato ci sono regole più rigide ma comunque in Italia è consentito è abbastanza libero l'acquisto anche sfruttando la comunità europea è più semplice poi ovviamente da internet ci sono siti che vendono bottiglie veramente da qualunque parte del mondo tra l'altro a volte anche a prezzi minori dei vini italiani e magari anche buoni nonostante dazi duoganali eccetera e quindi in realtà per tutte le tasche anche lì ci sono e ci si può sbizzarrire come diceva James Sackling è un percorso anche di scoperta lui consigliava di comprare innanzitutto non vini necessariamente molto costosi ma poi comunque leggere la storia capire provare i vini lui dice ha più bottiglie comprarne lo stesso in modo da vedere anche nel tempo come cambia il gusto imparare scoprirlo eccetera quindi è un percorso e diciamo la modalità di acquisto è quella proprio dell'acquisto fisico delle bottiglie varie modalità se lo si fa appunto per investimento soprattutto alti livelli ovviamente si consiglia di conservare in un ambiente ottimale affinché il vino si conservi alla temperatura giusta al giusto grado di umidità eccetera perché si rischia soprattutto se si compra già una bottiglia costosa se poi non è conservata in modo ottimale si rischia poi di perdere con l'investimento c'è anche il rischio che si possa rompere la bottiglia ovviamente tutta una serie di rischi quindi chi fa acquisto a livelli alti di investimenti di vini non parlo di chi inizia magari in quel caso James Huckling diceva anche potete benissimo tenere il vino anche sotto il letto o dentro un armadio basta che è protetto tra la luce non abbia sbalzi di temperatura troppo forti e già va bene insomma ecco in realtà per molti vini dipende anche lì il tipo eccetera ma lui diceva alla fine non è che serve la cantina di altissimo livello se però si fa chiaramente a livelli importanti di vini costosi a quel punto bisognerebbe aggiungere al costo del vino anche il costo di conservazione in particolare a volte ci sono anche delle cantinette proprio elettriche che mantengono la temperatura e l'umidità al grado ottimale altrimenti vanno tenuti magari se si ha una cantina in casa ma ovviamente assicurandosi che le caratteristiche ci siano ripeto se magari comprate bottiglie da centinaia o migliaia di euro diventa vitale conservarle bene e addirittura per evitare rischi di rotture di bottiglie comunque che siano magari compromesse da fattori estremi allagamenti succede tutto terremoti cose così spesso vengono anche assicurate ci sono come per tutti i beni d'investimento anche delle assicurazioni proprio per il vino quindi bisognerebbe aggiungere ecco il costo di tutti gli apparati cantine eventualmente da conservazione il costo dell'elettricità che magari fino a tempo fa era così trascurabile adesso andrebbe calcolato anche quello visti prezzi assurdi speculativi che hanno creato e poi eventualmente un'assicurazione ecco oltre al fatto che poi se si comprano le bottiglie nell'ottica di rivenderle se vengono rivendute solitamente direttamente ci si dovrebbe rivolgere per vini parlo di alto livello a case d'asta come sotterby christis o anche alcune specializzate proprio in vini che però chiaramente chiederanno delle commissioni anche abbastanza importanti a fronte ovviamente del mercato di elite e molto ampio che raccolgono oltre a tutta l'expertise che danno garantiscono il vino e quindi chiaramente anche i clienti sono più propensi a fare offerte ma questo a fronte di costi importanti quindi andrebbe tenuto presente anche il costo poi di vendita del vino una volta che eventualmente si decide di rivenderlo se è aumentato molto di valore quindi questo per quanto riguarda l'investimento in appunto effettivamente in bottiglie che come dice già il Negnelli alla peggio ci possiamo bere se vediamo che ci va. Seconda modalità di investimento è quella attraverso l'acquisto di titoli azionari di società che producono vini o anche altri alcolici ci sono da varie parti del mondo e comunque se si ritiene che quelle società quelle cantine producano vini di certa qualità che magari sono sottovalutati aumenteranno avranno successo eccetera può essere anche così più semplice più pratico soprattutto se si ritiene che la società sia sottovalutata e li vanno studiati ovviamente i bilanci e tutto è più semplice magari comprare titoli azionari di quelle società anche di alcolici eccetera ho fatto delle ricerche non ho trovato in realtà degli etf che raccolgano proprio società di vini almeno poi fatemi sapere se magari li trovate voi però ci sono anche poi degli etf per categorie ho visto legate per esempio a settori alimentari settori anche dei beni dei vizi quindi magari sigarette sigari alcolici eccetera quindi raccolgono società di questi ambiti quindi può essere che magari lì comunque trovate varie società di produttori di vini alcolici che sono ben diversificate da un etf però non ne ho trovato uno in particolare di produttori vinicoli però magari in questo chiedo a voi anche ovviamente quindi diciamo la seconda terza modalità è anche non solo quella di investimento direttamente in titoli azionari singoli ma anche eventualmente in etf o altri strumenti finanziari che replicano comunque l'andamento di queste società ecco quindi direttamente l'investimento in società la quarta modalità consiste nel lo sfruttare proprio tutta una serie di piattaforme lì anche si apre un mondo ognuna con caratteristiche diverse che consentono di investire in vini ma un po come quelle per i metalli preziosi che garantiscono anche il diritto di custodia per cui in realtà semplicemente si compra online o comunque sulla carta magari l'oro e poi viene conservato su dei forzieri magari anche non so in svizzera o paesi così però in qualunque momento si può decidere di riavere l'oro fisico oppure no insomma ognuna caratteristiche diverse così anche ci sono società di investimenti in vini che diciamo offrono la possibilità di acquistare delle bottiglie che poi la stessa società si impegna a tenere nelle sue cantine in condizioni ottimali assicurate quindi togliendo l'onere al cliente di di doverlo fare a casa propria quindi non si ha la disponibilità fisica della bottiglia alcune presumono consentano anche di richiederla se si vuole però ecco sta depositata lì se l'idea è solo investire in un vino sperando poi che aumenti di valore e di poterlo rivendere queste piattaforme a volte a fronte ovviamente di commissioni costi eccetera però consentono di fare questo di comprare e anche rivendere altri utenti la nostra bottiglia nel frattempo che è conservata nelle cantine della società come dicevo anche lì c'è di tutto addirittura anni fa avevo letto adesso non l'ho ritrovata ma addirittura di un sito di crowdfunding quindi che consentiva agli utenti di prestare e vendere soldi a fronte di tassi di interesse con la garanzia bottiglie di vini pregiati quindi se la controparte non pagava metteva garanzia di vini pregiati che appunto venivano a quel punto inviati al creditore addirittura per dire quindi ci sono ripeto mille opzioni queste piattaforme ce ne sono tante e non mi metto a fare alcuni nomi per evitare così di dare l'idea di pubblicizzare una l'altra ma ce ne sono vari ognuna con caratteristiche diverse anche lì vanno calcolati bene i rischi rischi di controparte in particolare e infatti durante le ricerche che ho fatto in questi giorni mi è capitato un articolo del new york times che metto qui sotto in descrizione come sempre ma insomma è uscito qualche giorno fa che diceva grandi ritorni senza grandi rendimenti per l'investimento in vini pregiati whisky dice era una frode secondo gli stati uniti dice lo schema che le autorità hanno detto che usava tattiche aggressive e ingannevoli ha diciamo frodato circa 150 persone per addirittura circa 13 milioni di dollari secondo i documenti della corte essenzialmente era appunto una società che offriva questo tipo di opzioni di investimento in vini pregiati whisky eccetera e sostanzialmente sarebbe stata tutta una frode cioè magari queste poi ecco insomma l'indagine in corso ma sembrerebbe appunto qui in questo caso di queste piattaforme poi c'è il rischio ovviamente di dover verificare l'affidabilità della controparte alcune leggevo che consentono anche di riavere il vino ma appunto uno magari dice no non lo tengo a casa o rischi costi e tutto ve lo tieni tu paga una piccola commissione e sta sulle tue cantine però non ne abbiamo la disponibilità è come un po quando appunto si depositano i soldi in banca comunque a quel punto li ha la disponibilità alla banca anche se noi possiamo riprenderli in qualunque momento però nel momento non li abbiamo è diverso che avere una bottiglia in mano ma appunto offrono dei vantaggi come dicevo di minori costi minori scocciature minori oneri e anche la possibilità magari di rivendere altri utenti senza dover fare aste costose lunghe complesse magari c'è un altro utente che vuole la nostra bottiglia e noi siamo disposti a venderla a un prezzo e direttamente la compra da noi tutto avviene in realtà bottiglia rimane sempre in cantina ma la proprietà passa da un utente all'altro quindi magari ci sono ecco anche opzioni così quindi questi quattro diciamo modalità di investimento in vini come dicevo vanno secondo me conosciuti vanno capiti e anche lì non mi sento di dare un consiglio quale di queste quattro modalità sia la migliore dipende dalle vostre caratteristiche della vostra passione e in ogni caso io credo che come primo passo fondamentale prima ancora di pensare a investire eventualmente iniziare se vi interessa l'argomento iniziare a studiare da soli leggere capire magari visitare le cantine provare anche tanti vini come consigliava anche james huckling e altri ovviamente quindi tante volte io per esempio magari non è che ho questa passione in particolare del vino di bere eccetera magari uno l'altro mi piace lo provo uno ne provo un altro però non ho a parte come imparato non è che sia o non sia bisogna educarlo insomma anche lì ci sono dei corsi così anche amatoriali da sommelier per così imparare a gustare il vino ma poi anche capire eccetera però bisogna come primo passo secondo me studiare per capire proprio per capire anche l'investimento quindi quello è il primo passo se poi si vede che c'è la passione magari anzi diventa anche l'occasione per conoscere come dicevo per tanti hobby automobili orologi anche persone nuove con il proprio e con questo tipo di interessi creare dei gruppi delle amicizie dei viaggi insieme delle gite e questo è il bello tante volte più dell'investimento poi se si diventa bravi a quel punto magari si è anche in grado di capire le cantine sottovalutate capire anche il mercato per cui magari ci sono dei vini che costano poco e sono molto buoni dei vini magari che alla fine valgono tanto più per un nome eccetera e magari anche capire però le potenzialità di alcuni vini che oggi magari non hanno il nome ma lo avranno a volte anche per pura fortuna come avviene spesso anche nel mercato dell'arte il mercato di altri beni rifugio per cui magari certi artisti diventano famosi anche così per puro caso tante volte perché magari la loro opera viene notata da qualcuno li fa conoscere eccetera quindi purtroppo tante volte magari anche la fortuna di avere le opportunità giuste questo ovviamente anche per le cantine eccetera dipende anche molto dalle loro capacità strategie di marketing però magari appunto chi conosce le potenzialità del prodotto e magari anche di quel mercato la storia di delle cantine eccetera può diventare veramente una grossa opportunità di investimento addirittura per alcuni da produttori ma quello diciamolo è una categoria nuova però io ricordo su varie cantine anche importanti così avevo visitato cantine in senso venditore di vino ce n'era una in particolare da errors a londra tutto un piano di vini pregiati ce n'erano alcune cantine rocci e altre insomma quindi alcuni diciamo grandi famiglie a volte comprano le tenute producono con tecniche particolari ovviamente un prodotto di nicchia ad altissimi livelli quindi di viti particolari coltivate in un certo modo per cui quel vino prodotto in pochi esemplari si sa che viene proprio da quella vigna coltivata in un certo modo con un terreno di un certo tipo condizioni climatiche ottimali eccetera quindi addirittura quello può diventare anche un'opportunità per i produttori quindi può diventare anche un business ma non ne parlo in questo video perché comunque parlo di investimenti diciamo da utenti da investitori e non da produttori ma per dire che può diventare anche un'opportunità di quel genere per chi ha molti capitali e magari si vuole rivolgere un mercato di nicchia ma chiaramente servono molti soldi anni a volte sono operazioni che non è facile che riescano comunque si ci si inserisce su dei mercati già esistenti contraddizioni eccetera però ecco queste quattro modalità potrebbero essere innanzitutto un hobby e poi magari anche la potenzialità intanto di differenziare il proprio portafoglio e poi magari anche di scoprire magari anche delle bottiglie che magari possono aumentare anche potenzialmente molto di prezzo e comunque tutto fa anche perché come dicevo un investimento non correlato solitamente storicamente meno volatile rispetto al mercato quindi magari può essere interessante come altri sotto questo punto di vista poi come diceva Gianni Agnelli la peggio si bevono le bottiglie se ne avete la disponibilità fisica fatemi sapere cosa ne pensate e poi non sono andato troppo nei dettagli per non appesantire il video ma ecco comunque spero sia utile quantomeno per darvi le potenziali opzioni che poi ognuno di noi può approfondire per i propri singoli casi grazie e di nuovo ciao a tutti